all'indomani di tanti eventi ripetuti e tragici di questi giorni credo che tutti specialmente chi usa e chi confida nella possibilità di usare di controllare la sostanza deve aprire gli occhi le sostanze fanno questo poi si può sperare continuare a dire toccherà un altro perché lui è sbagliato perché lui è meno prudente perché lui è più avanti di me perché lui è altro da me ma questo lo pensavano anche queste persone che sono morte o che si sono fatte molto male ed è stato un rischio enorme quello che ha corso un 16 anni fuori da una discoteca in baldichiana per un overdose un dramma sfiorato il giovane è stato infatti soccorso e si è salvato si tratta della terza overdose negli ultimi mesi nella provincia di arezzo lo scorso marzo all'interno del parco del pionta venne ritrovato senza vita un 29enne e a distanza di appena 10 giorni un'altra giovane stroncata da overdose Sara appena 19enne venne infatti ritrovata morta all'interno di un casolare di cesa l'allarme è iniziato molti mesi fa quando abbiamo visto che le sostanze sono tante sono tante come tipi e sono tante come qualità e quello che è impressionante è ma lo sappiamo dagli studi che sono ormai pubblicati che l'atteggiamento dei ragazzi più giovani è di confidenza con le sostanze è di sdoganamento il mercato delle sostanze psicoattive un mercato in continuo mutamento a preoccupare oggi sono infatti anche le nuove droghe soprattutto i mix di varie sostanze stupefacenti questo grande enorme interesse economico c'è dietro le droghe ha fatto sì che sempre andassero sviluppando dei principi attivi o delle formulazioni appunto suggestive accattivanti ma anche molto dannose sono probabilmente capaci di dare degli effetti acuti più gravi il fatto che vengano prese assieme in cocktail appunto non rende nemmeno prevedibili gli effetti e è pericoloso anche la filiera della distribuzione che le porta a tagliare a contaminare a sofisticare per cui arrivano nel mercato prodotti che sono anche francamente pericolosi grazie